E' tornato nuovamente alla carica chiedendo interventi alla Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo consigliari in merito alla vicenda Cartodromo, Palalivatino e Parco di Montelungo. Lui è Gatano Minardi, segretario gelese di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. Aveva già scritto lo scorso 29 giugno ma non ha avuto alcuna risposta in merito. Minardi sottolinea lo stato di abbandono e degrado in cui versano i tre spazi sportivi e naturalisti. Le opere sono oramai divenute luogo di discarica abusiva di materiali di qualsiasi genere ed in particolare di amianto. I rappresentanti delle istituzioni comunali di Incaro Minardi devono attivarsi al fine di provvedere alla bonifica dei siti con particolare attenzione alla rimozione e smaltimento dello stesso amianto. Le tre strutture sono di proprietà del libero consorzio di Caltanissetta ex provincia regionale ma il sindaco continua ancora il segretario di Fratelli d'Italia attivando i poteri che la legge gli conferisce a tutela della salute e dell'igiene pubblica può adottare i provvedimenti urgenti e necessari per garantirne la sussistenza. Inoltre in considerazione della grave crisi economica, sociale e industriale in cui versa la comunità locale Minardi invita il primo cittadino e le istituzioni ad attivarsi e o attivare tutte le procedure e i canali politico istituzionali necessari al fine di acquisire al patrimonio comunale il cartodromo, il paralivatino e il parco di Montelungo. La discussione se necessario potrà essere portata in consiglio comunale o alle conferenze dei servizi. La valorizzazione e la riorganizzazione di questo immenso patrimonio potrebbe costituire un importante volano di ripresa e di sviluppo economico per il nostro territorio continua Minardi e rilanciarne la stessa immagine. Il cartodromo di Contrada Zai è unico nel suo genere in tutto il Mezzogiorno d'Italia per caratteristiche e grandezza. Il parco di Montelungo è stato sede di un campo di tiro a piattello e di una pista di motocross inseriti nel circuito delle gare nazionali, mentre il paralivatino al di là della sua attuale destinazione di Minardi potrebbe essere trasformato in una piscina pubblica coperta.